cos'è arrivato in tempi record lo so che lo sapete scrivetelo nei commenti dai forza cinzia cinzia mai scritto nel titolo lo sapranno già vabbè ma ci sta dai ragazzi sono arrivate le cover dobbiamo assolutamente aprirle vedere che cosa è se è se non è se ci sono tutte se sono giuste se sono belle il mio telefono è qui pronto a provare tutte le cover ci siamo ragazzi ci siamo l'unica cosa che manca è l'intro quindi ehi ciao a tutti io sono tizia e oggi vedremo cosa c'è dentro questo pacco lo sappiamo cosa c'è ma vediamo se sono tutte se sono buone e se ecco sono un poi saltata sono le 11 e 25 di mattina e sono troppo felice ieri è arrivato il pacco e ancora non l'ho vista e quindi sono troppo ecco capitemi e detto ciò dovete iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti mettere un pollicione in su se volete ancora video dove compro su wish acquisto su wish da bendata da non bendata basta che compro e ovviamente commentate giù nei commenti non appena apriamo qual è la vostra preferita sono troppo curiosa andiamo ad aprire e ovviamente seguitemi su instagram e tiktok yeah tutti pronti tutti curiosi ecco qui il pacchettino quello che mi fa un po paura perché quando li vedo così neri e brutti e non so provengono da molto lontano e ho molta paura ma vediamo punterà altri pacchi come sempre 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 sono 6 via tu sono 6 pacchi ragazzi quale busta quale busta scegliete la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 sono qui oh mio dio è caduta è caduta vuole essere aperta allora o vuoi scappare lo scapperai sento una cosa qui e già so qual è ragazzi quella col cuore apriamola apriamola oh speriamo sono giuste e rosa tutta paiettata sbrilucicosa no paiettata sbrilucicosa oh 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 certo non passerò inosservata con questa proviamola questa è la cover davanti questa è la cover dietro non si vede bene si si vede guardatela dai è carina spero che mi troverò si che mi troverò bene a meno che questo coso non cada e quindi mi fa rompere il telefono però guardate troppo bella pronto oh si sono io oh 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 calma ci iniziamo andiamo avanti intanto facciamo questa adesso abbiamo altre buste altre buste e altre buste yeah apro questa che mi sembra gigante non so perché uh della serie che è bella questa c'è addirittura il coprifotocamera cioè nel senso come faccio vedere tadaaa togliamo questa e si capisce vedete mentre tutte non coprono questa parte che è molto delicata perché sporge la telecamera questa si proviamola levati tu tadaaa tada 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 e fatta bene ragazzi e poi copre guardate vedete oh oh ma che aspetta oh aspetta che mi sono persa una cosa boom e c'è l'accento aah com'è che cappa aiuto sembra vivo eccolo qui c'è il buchino si mette questo bello oh no questa l'ho scelta io è l'unica che ho scelta io ragazzi sailor moon amica sailor moon che sono intorno no che graffail ragà è brutta ma neanche si vede il disegno guardate è sviadito è brutto voglio il rimborso è brutta guardate si capisce è proprio sviadita non si cioè non sono colori accesi non è come nell'immagine andiamo avanti l'ho scelta io addirittura quindi l'ho vista con gli occhi ovviamente con gli occhi non vuole essere aperta ci penso io a te è scappata addirittura forbici dalla punta arrotondata non riesco ad aprirla ho capito quale ho visto il colore mi prego fa che sia bella mi prego oppla si queste sono le cover belle queste guardate che colori belli accesi intensi merry christmas a tutti ragazzi merry christmas proviamola e saliamo questa che pezza io mi ribellerò a wish voglio i miei soldi indietro bella questa però guarda jingle bell jingle bell ho fatto bene a prenderla rossa è proprio proprio natale eh jingle bell jingle bell jingle jingle bell mancano le ultime due questa ah è già questa è nera no ragazzi questa è quella che tipo ho scelto il colore così a caso uh c'è anche il laccetto anche il lato dai è bella uh mi cambia il telefono totalmente perché è coperto qui quindi è tutto nero mi piace anche questa nera abbiamo l'ultima ragazzi l'ultima e so anche qual è ok bevati bevati oh no è rosa oh olle che carino ci sono tipo i cosini qui pure oh l'arcobaleno la nuvoletta e un'altra nuvoletta basta proviamola pronto si ciao papà natale voglio tanti regali quest'anno ma cosa c'entra non lo so va bene ho finito sono tutte aperte le cover no ragazzi cioè la cover di se lor moon è finita nel cestino precisa precisa poverina vieni ma no niente cade sempre vi sembra giusto c'ho una due tre quattro cinque e sei sono queste ragazzi spero che vi piacciono anzi ditemi giù nei commenti quale vi piace di più e quale dovrei indossare per prima io sinceramente non lo so sicuramente non quella di natale perché la metterò a natale quella di se lor moon no e quindi o questa o quella nera o questa di qui questa è un po' troppo scicchettosa forse per poterlo utilizzare durante il giorno così non lo so poi c'è una giornata grigia sta piovendo non la vedo molto adatta ditemelo nei commenti così la utilizzerò ok adesso io vi saluto e vi mando un bacione enorme ho i capelli orribili e ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscriviti al canale metti un pollicione in su condividi questo video seguimi su instagram e tiktok e niente vi voglio bene tanto anzi vi voglio tantissimo al prossimo video vado a scegliere la mia cover ah e ditemi cos'altro dovrei comprare da bendata ciao ciao